Ciao a tutti gli amici di GamesCollection.it, benvenuti a questo speciale video unboxing dedicato al PC Engine LT, una macchina fantastica prodotta dalla NEC e distribuita a partire dalla fine del 1991 a 99.800 yen, oggi sarebbero quasi 1000 euro ma convertirti all'epoca vi assicurerà molto di più, è una macchina molto particolare, LT sta per laptop, ossia è una sorta di computer portatile, a vederlo bene, dopo ve lo mostrerò aperto, in realtà non poteva essere trasportato perché non aveva né il blocco batteria né altro ma andava collegato alla rete elettrica, particolarità della macchina era quella di avere un tv tuner integrato e quindi era anche una sorta di, anzi non una sorta, era proprio un televisore portatile, sempre ripeto, con i limiti del cavo, aveva anche la possibilità di essere collegato alla valigetta del PC Engine, che era una valigetta che dava come add-on la possibilità di avere i giochi su CD-ROM, ovviamente la macchina funzionava come tutte le altre, sempre su Ucard, come tutti i giochi per PC Engine, ma andiamo a vedere effettivamente cos'è contenuto all'interno della confezione, questo è come vedete confezione che peraltro è sempre molto sobria e molto professionale in stile PC Engine, all'interno abbiamo le classiche istruzioni e le garanzie, i fogliettini, tutto è molto molto semplice, molto poco colorato e semplicemente ci indica come utilizzare la macchina, queste sono brand new, invece la macchina utilizzata perché ci ho giocato anche parecchie volte, anche se bisogna stare attenti perché lo schermo è molto molto delicato, ovviamente non manca il suo alimentatore, in quanto come vi ho detto la macchina va collegata per forza alla presa di rete, un cavettino del quale al momento ignoro l'utilizzo perché è sempre stato rotto, non so se è quello, anzi ve lo confermo, è quello per collegarlo, dovrebbe essere quello per collegarlo alla valigetta di cui vi parlavo prima col CD-ROM, ed ora andiamo a vedere la macchina, giriamo il tutor perché questi oggetti sono molto delicati oltre che estremamente rari, attualmente su ebay i prezzi si sono impennati e per avere un PC Engine in condizioni semi complete perché non ce n'è nemmeno uno completo poi vi spiego il motivo, chiedono la bellezza di 1300€ allo stato attuale, questa è perfetta come vedete il box è molto molto delicato perché è un cartoncino veramente che va a pezzi a guardarlo, se non si sta attenti, come vi dicevo l'antenna è fondamentale all'epoca per poter guardare la tv, ovviamente solo in Giappone era compatibile solo con il standard giapponese, apriamo la macchina, poi vi spiegherò un po' di dettaglio anche a livello collezionistico come vedete la macchina è bellissima, è un PC Engine perché le dimensioni sono quelle di un PC Engine con il suo slot Ucard, adesso vi faccio vedere la comparazione con un PC Engine Core Graphics per rendervi conto delle dimensioni ed è come vedete la stessa identica macchina con lo stesso ingresso, con la stessa porta per il joystick ma in realtà il pad era già integrato nella macchina in questo caso con tutti i suoi pulsanti e con i turbo già a pannello e aveva anche lei sempre lo stesso sistema di avviamento, si acciola dentro la Ucard per poter far partire la console altrimenti sarebbe rimasta spenta, non si accende proprio lo schermo è un 4 pollici, bellissimo, come tutti quelli dell'epoca ha il difetto che spesso ci sono dei dead pixel e stesso difetto per l'audio in questo caso invece ha due o tre dead pixel ma l'audio per fortuna non è stato intaccato davanti vediamo che ha la presa per le cuffie, il led di segnale, volume, la luminosità questi a livello collezionistico sembrano per noi contare poca roba magari ma sono fondamentali questi tappini qua, se andate a vedere tutte le inserzioni sono persi, nessuno dei PC Engine eletti attualmente in vendita e sono molto difficili da trovare completi di questi tappini questo è questo laterale per l'ingresso dell'alimentazione qui a lato abbiamo anche la possibilità di connegare l'antenna esternamente, selezionare se su game o tv e l'ingresso per la v in, quindi la possibilità di utilizzare lo schermo con altre fonti qua dietro abbiamo la possibilità di scegliere tra i canali, tra i preset oppure gli all channel quindi scegliere o i canali preselezionati o tutti quelli esistenti questo è l'altro pezzo che va molto spesso perso che è la copertura dell'externo al basso questo sia la possibilità perché attraverso questa porta come vi dicevo può essere collegato alla valigetta della PC Engine con il CD-ROM e qua ovviamente il DC-IN l'altro che non era coperto dal tappino perché uno serve per l'alimentazione attraverso il lettore CD-ROM mentre questo serve per la sua alimentazione normale senza utilizzare il CD-ROM sul retro abbiamo il seriale, in questo caso se non ricordo male di sicuro anzi così matcha se siete collezionisti sapete che è fondamentale sia che tutto coincida sia da istruzioni che da macchina che da box e infine qua abbiamo le regolazioni per il colore per la tinta quindi per dare ancora maggiori regolazioni allo schermo direi che è tutto, adesso vi faccio vedere una prova in game, a dopo, ciao ragazzi! e come annunciato eccoci con la prova in game per farvi vedere un attimo le qualità dello schermo come vedete è bellissimo, la resa è veramente eccezionale abbiamo diverse possibilità di lavorare sul colore e sulla luminosità dello schermo e quindi renderlo più scuro o più luminoso il volume è cristallino per fortuna quindi vuol dire che ancora tutto funziona per il meglio il consiglio ovviamente essendo un oggetto molto 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 delicato è quello di trattarlo con i guanti diciamo che ci sono altri modi per giocare ragazzi io direi che è tutto questo è Gunhead è un classico se cercate questo oggetto vi ricordo su ebay si trova veramente veramente a prezzi folli però purtroppo la quotazione media ormai è sicuramente superiore ai 1000 euro un bocca al lupo a tutti i collezionisti e un saluto da Fedeweb ciao ragazzi! grazie a tutti! grazie!